Musica Chioschi, proteste in comune, i gestori non siamo abusivi, il caso delle attività su lungomare chiuse dopo i controlli, protesta davanti al comune e degli operatori che si sono presentati con striscioni e tralli caldi, l'appello alle istituzioni, siamo qui per tutelare il lavoro e la dignità. Campania, caos carcere, così il sistema non regge, nei penitenziari regionali ci sono 2000 detenuti in più della capienza prevista, più della metà sono giovani, è quanto denuncia il garante Samuele Ciambriello che invoca misure alternative per allentare le tensioni in cella. Violenze su bus e treni, il prefetto, più controlli, un capotreno preso a pugni da un passeggero senza biglietto a Napoli Centrale, l'ultimo episodio di violenza a bordo dei mezzi, al centro di un incontro in prefettura, dai sindacati SOS per tutelare la sicurezza dei lavoratori. Crisi idrica in Irpinia, sempre più comuni a secco, si aggrava l'emergenza in provincia di Avellino, dove si allunga l'elenco dei municipi che devono fare i conti con le difficoltà di approvvigionamento. Da sindaci alto calore, appelli antisprechi, ma bisogna ammodernare le reti. Salerno-Santa Teresa, una spiaggia nel degrado, proseguono i lavori sul tratto di litorale in centro, dove bagnanti lamentano le lungaggini del cantiere e la qualità del mare. Anche a Napoli, bagnazione vietata da Lungomare a Posillipo dopo le analisi dell'ARPAC. Buonasera e ben ritrovati con il Tg. Erano questi i nostri titoli. In apertura di questa edizione, la protesta dei gestori dei chioschi a Napoli, in tanti sotto Palazzo San Giacomo, per chiedere un incontro al sindaco Manfredi dopo i sequestri delle strutture su Lungomare. Chiedono una riapertura immediata e oggi si sono presentati davanti all'ingresso del municipio con striscioni e taralli caldi. Sono i gestori degli storici chioschi presenti sul Lungomare di Napoli. La vicenda risale allo scorso mese di giugno, quando sono state avviate operazioni di controllo sui chioschi del Lungomare, da Largo Sermoneta a Piazza Vittoria, molti dei quali sono stati posti sotto sequestro. I gestori non ci stanno e chiedono un incontro immediato al sindaco Gaetano Manfredi. Ci hanno chiamato delinquenti, abusivi in tutto. Noi paghiamo tasse, ci stanno progetti, loro ci hanno messo là, loro ci hanno dato tutti i permessi per le autorizzazioni che noi adottavamo. E' chiaro, non è che è stato un abuso nostro. Il vero abuso l'hanno fatto loro, non noi. Siamo già giusti da due mesi, in pieno sistema estivo. Si lavorano soltanto questi mesi qua, due, tre mesi si lavorano. Ci giudono un periodo estivo. Poi l'abusivismo vero che esiste non viene sentenziato, nessuno reclama, nessuno va a sollecitare. Pronti a sanare eventuali irregolarità, dicono i gestori, ma a patto di salvaguardare il lavoro e i guadagni. Hanno dato i posteggi a ognuno di noi, quindi i nostri posti erano vingolati, si hanno scritte sulle licenze. Poi di cosa vogliamo parlare? C'è stato qualche abuso? Si, si, facciamo una sanazione, togliamo gli abusi, ma non potete buttare le famiglie in mezzo alla strada dalla sera alla mattina. In Campania, 2.000 detenuti in più, oltre 1.000 sono under 30. I dati sul sovraffollamento negli istituti di pena della nostra regione, il garante Ciambriello, c'è bisogno di misure alternative. Dati da record sul sovraffollamento in Campania, abbiamo 2.000 detenuti in più nei 15 istituti della nostra regione, 1.400 sono tossicodipendenti e 1.000 detenuti che devono scontare meno di un anno di carcere. A fornire i numeri della situazione ormai al collasso è il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, che ha tenuto una conferenza stampa nella sede regionale a Napoli. In questo momento un appello concreto alla politica. Misure deflattive subito. In tutta Italia, su 61.000 detenuti, 8.000 devono scontare meno di un anno. Dire assunzione di nuovi agenti di polizia penitenziaria, 500, sapendo che già in tutta Italia, entro dicembre, più di 2.000 agenti di polizia penitenziaria andranno in pensione, la cosa ci inorridisce. Poi l'aspetto dei suicidi. Nel decreto sicurezza, nel decreto carcere, non si parla mai di questo. 66 suicidi in Italia, 7 in Campania, 1.271 tentativi di suicidi. Non c'è stata una strage per il pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria. In aumento i detenuti tra i 20 e i 30 anni, spesso non scolarizzati, per i quali Ciambriello chiede più figure sociali e misure alternative. Abbiamo bisogno di psicologi, psichiatri, assistenti sociali, educatori. Ecco, le pene, il carcere servono a rieducare. Abbiamo bisogno di strumenti, professionalità, che fanno da ponte per aiutare il detenuto a ravvedersi. Più controlli su bus e treni ed una linea diretta con le forze dell'ordine per i lavoratori del trasporto pubblico. È quanto emerso dall'incontro in Prefettura Napoli dopo l'ultimo episodio di violenza e danni di un capotreno. In Prefettura Napoli la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Tra i temi affrontati anche l'emergenza violenza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale. L'ultimo episodio alla stazione di Napoli Centrale con un capotreno preso a pugni da un passeggero senza biglietto. Per il dipendente ferroviario, trauma cranico e 15 giorni di prognosi. Per i sindacati è solo l'ultima di una lunga serie di aggressioni. Si stanno susseguendo troppe aggressioni che nella fattispezione sono aggressioni fisiche ma ci sono anche aggressioni verbali che quotidianamente si vive sui treni ma in generale all'interno dei mezzi del trasporto pubblico locale sia su ferro che su gomma. Subito più controlli nel comparto del trasporto pubblico specialmente sulle linee più a rischio e nelle ore notturne ma anche una linea diretta con le forze dell'ordine per i lavoratori. Questi i temi al centro del confronto in Prefettura Napoli. Per i sindacati servono provvedimenti definitivi. La paura c'è soprattutto poi anche nelle ore notturne e questo ci porta ovviamente a dover intervenire in maniera forte. A quel punto lì si è solo l'operatore, solo l'addetto in balia di questi balordi che molto spesso insomma aggrediscono semplicemente per il titolo di viaggio. Non ne possiamo più. Sono troppi diciamo le aggressioni fisiche ma anche verbali e a questo punto diciamo basta. O si prendono seri provvedimenti o adotteremo come dire a questo punto qua tutti gli strumenti utili e necessari per la tutela non solo degli operatori ma anche della stessa clientela. Ci sposiamo al McDonald perché siamo poveri. È il preludio del matrimonio di una giovane coppia di Montoro che ha deciso di festeggiare le nozze ad Avellino precisamente nella galleria Erone nel noto fast food americano. In un video diffuso sui social è diventato virale e si vedono gli invitati mentre festeggiano nel ristorante un matrimonio in modo decisamente alternativo. Torna il forte caldo, i medici, tante le richieste di intervento questa estate a causa delle alte temperature spiega il vicepresidente dell'ordine dei medici di Benevento, Luca Milano. Rispettare le indicazioni fornite in questi mesi dalla corretta idratazione alla sana alimentazione e prestare attenzione in particolare a soggetti fragili sono le raccomandazioni dei medici per affrontare al meglio il forte caldo. Dopo un'estate torrida, anche in questi ultimi giorni d'agosto e in particolare nel prossimo fine settimana si prevede che le temperature possano tornare a salire. Napoli e Benevento, tra le città più calde, un clima che quest'estate ha portato ad un aumento delle richieste di intervento ai medici di base spiega il vicepresidente dell'ordine dei medici di Benevento, Luca Milano. Stiamo ricevendo tante richieste di visite a domicilio proprio legate a queste alte temperature e quindi stiamo cercando di fare di tutto anche per filtrare un po' ed evitare l'iperaccesso di questi pazienti nei pronto soccorso e ci auguriamo che queste temperature prima o poi ci diano una tregua. E dall'esponente dei medici sanniti arriva un appello per gli anziani che vivono soli. Stare attenti soprattutto alle persone che sono sole, che vivono sole in casa, sia se sono parenti ma anche se si ha un vicino di casa che vive da solo. Mentre dall'ospedale Cardarelli di Napoli nuove indicazioni per i pazienti diabetici nell'ambito di estate in salute. Dalle attenzioni da seguire spiaggia all'importanza della prevenzione anche in vacanza. L'estate è importante che i pazienti diabetici non cammini in scanzi, in particolare sulla sabbia. Iniziativa dedicata ai comportamenti da adottare in questo particolare periodo dell'anno per affrontare con serenità le alte temperature. Dalla bassa all'alta Erpinia sospensioni idriche e disagi per i cittadini. L'alto calore e i sindaci invitano ad evitare sprechi e chiedono alle istituzioni competenti il riamodernamento delle condotte. Che sia bassa o alta Erpinia la crisi idrica non sta risparmiando nessun territorio della provincia di Avellino. Anche oggi si registrano sospensioni idriche a tappeto specie nelle ore notturne da Taurano a Savignano. L'alto calore invita i cittadini ad evitare sprechi e si appella alle istituzioni competenti perché si acceleri per il riamodernamento delle condotte ormai obsolete. La rete idrica non è più nelle condizioni di mantenere nulla. La vita utile è abbondantemente terminata. Parliamo di condotte che hanno 60-70 anni. Quindi ovviamente il riparare tampona momentaneamente ma sono soldi che vengono buttati. La gente deve capire che nel momento in cui c'è spreco di acqua è controproducente anche per se stessa perché i serbatoi non ce la fanno e con le temperature che abbiamo ovviamente sì, facciamo le manovre di apertura e chiusura per consentire almeno alla gente di potersi lavare la mattina prima di andare a lavorare. Ma è chiaro che mantenere l'acqua nei serbatoi per 24 ore è assolutamente impossibile. E un invito a ridurre il consumo dell'acqua arriva ai cittadini, anche dai sindaci. C'è sempre una questione di civiltà mi rimetto sempre al senso civico dei cittadini perché controllare chi innaffia i giardini chi riempie le piscine avrebbe bisogno di un esercito di vigili urbani e di dipendenti quindi cerchiamo di fare i nostri controlli ma nei limiti che ogni ente comunale ha. Proseguono i lavori al solarium di Santa Teresa Salerno dovrebbero terminare entro fine settembre. Vediamo. Dopo diversi rinvii e rallentamenti si vedono i primi risultati dei lavori sul solarium della spiaggia di Santa Teresa Salerno. Dovrebbero terminare entro la fine di settembre. Gli operai del Comune stanno provvedendo a sostituire le pedane in legno un tech di qualità differente dal precedente che si era ormai usurato diventando in molti punti pericoloso. I bagnanti che affolano la storica spiaggia cittadina chiedono di velocizzare l'intervento. Ma insomma potevano fare un po' meglio per i finitore ma più che altri tempi. Magari andavano fatti non a cavallo dell'estate? Eh, forse anche prima già. Se andavano fatti è giusto che vanno fatti. Voi venite in spiaggia spesso? Sì, un giorno sì e un giorno no. Va curata questa spiaggia? Serve ai salernitani? Sì, sì serve. Questo mi dicevo in questi giorni tutto va curato. Molti bagnanti lamentano però che il mare e la spiaggia siano troppo sporchi. L'altro giorno siamo venuti e c'erano tutte le sigarette per terra i fuochi, bottiglie di birra anche in mezzo al mare bottiglie di vetro, no? E' troppo sporca devono togliere quelle fognature quelle scariche che ci stanno che è tremendo. Anche a Napoli mare inquinato e quanto emerge dai rilievi ARPA con ordinanza del comune ha disposto il temporaneo di vieto di balneazione per i punti Donnanna lungomare Caracciolo Pietrarza e Via Partenope sforamenti dovuti alle forti piogge di questi giorni l'ente ha richiesto nuovi prelievi urgenti. Non solo turismo per ammirare le bellezze storiche e culturali di Benevento ma anche quello religioso come i pellegrini che si recano in visita a luoghi natali di San Pio e dei conventi che il Santo di Pietralcina ha frequentato. Inserito nell'elenco dei cammini di fede itinerari di turismo religioso della CEI la conferenza episcopale italiana e il cammino religioso la via dei conventi di Padre Pio è stato incluso anche nel catalogo dei cammini religiosi italiani dal Ministero del Turismo. Nelle ultime ore i pellegrini sono partiti da Benevento per raggiungere i luoghi frequentati dal Santo dell'Estimate che abbraccia più province e più regioni. E' nata questa idea di fare un cammino nei conventi di Padre Pio dove Padre Pio si è formato spiritualmente negli anni essendo stato battezzato prima comunione da lui è nata questa idea di fare questo e questo cammino attualmente è stato riconosciuto dal Ministero del Turismo e dalla CEI quindi abbiamo un cammino importante in Italia. Un turismo religioso che punta anche ad ampliare la propria offerta per valorizzare e far conoscere i luoghi di culto. Adesso proseguiamo per Monte Fusco poi Gesualdo in due giorni per cui quest'anno abbiamo questo cammino con questi due conventi l'anno prossimo invece l'anno del giubilare dei cammini faremo Pietralcina San Giovanni Rotondo Monte Sant'Angelo a piedi un po' più lungo. La lotta alla mafia e la pesante eredità di Peppino Impastato a Sant'Andrea di Conza per la tredicesima edizione della Fessa del Libro ospite speciale Giovanni Impastato che ha presentato il suo nuovo libro Mio Fratello In una gremitissima piazzetta abruzzese tra i libri appesi nei vicoli di uno dei borghi più suggestivi dell'Alta Erpinia risuonano le note dei Cento Passi dei Modena City Rambles e al centro Giovanni Impastato l'ultimo testimone l'erede di una storia di lotta portata avanti con coraggio e determinazione da quel maledetto 9 maggio del 1978 il giorno in cui Peppino Impastato fu ucciso dalla mafia con il tritolo Mio Fratello Tutta Una Vita con Peppino è il titolo del volume presentato alla tredicesima edizione della Festa del Libro Giovanni Impastato ha voluto raccogliere i ricordi quelli belli e quelli più dolorosi per lasciare ai giovani un ultimo messaggio di speranza la mafia si può sconfiggere l'ho fatto perché su Peppino si deve sapere tutto perché la storia bisogna completarla e soprattutto dare un contributo alle nuove generazioni perché la storia di Peppino non contiene un messaggio solo di impegno civile un messaggio politico ideologico ma il suo messaggio educativo considerando che ha operato una grande rottura che non è avvenuta solo all'interno del contesto sociale della società dove lui ha vissuto ma è venuta soprattutto all'interno della propria famiglia come tutti sappiamo la nostra era una famiglia di origine mafiosa c'era dell'alta mafia nella nostra famiglia e la sofferenza di un sciamaggio e dei compagni di Peppino è venuto fuori questo libro Tanta la partecipazione per la prima serata di una rassegna che trasforma i vicoli in salotti letterari mentre le case del posto aprono le loro cucine per offrire cibo e vino locale ma anche piatti internazionali come le tipiche a Repas del Venezuela meta di molti migranti lo scenario ideale per presentare la candidatura di Sant'Andrea di Conza a capitale della cultura 2027 il centro storico è il fulcro della napoletanità e Totò lo rappresenta benissimo il commento di cittadini e turisti rispetto alla proposta di un museo dedicato al principe al monte di pietà a Napoli un museo dedicato a Totò all'interno del monte di pietà in via San Viaggio dei Librai un tempo storico Banco dei Pegni nel cuore del centro storico della città di Napoli il sito è già oggetto di un finanziamento di 5 milioni di euro del comitato interministeriale del CIPES 10 dal Ministero della Cultura fondi che saranno destinati per lavori di riqualificazione del monumento ma l'ipotesi che possa diventare un luogo in cui celebrare anche una delle figure più amate il principe della risata sembra piacere a turisti e napoletani centro storico praticamente il fulcro della napoletanità e Totò lo rappresenta benissimo basta che vedere ancora oggi i suoi film fanno ridere appassionano nonostante l'età quindi penso che sia una ricchezza ulteriore per la nostra città sarebbe ottimo Totò per noi è un fiore all'occhiello e non morirà mai ed il monte di pietà per i cittadini potrebbe rappresentare il luogo ideale per ricordare Totò soprattutto per i tanti turisti presenti a Napoli è un posto adatto perché qua siamo proprio a Spaccanapoli quindi sarebbe l'ideale proprio per tutti i turisti che vengono da tutto quasi il mondo sicuramente sarà il posto adatto perché comunque siamo al centro storico molto frequentato dai turisti ma secondo me va bene in questa posizione perché il centro di Napoli Spaccanapoli è una zona molto molto popolare molto importante sarà sicuramente una bella idea anche per incrementare ancora il turismo che in questa zona è già lievitata Il Tg termina qui grazie per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Otto Channel Grazie a tutti Grazie a tutti